Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del Tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della Sua Madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Regina della famiglia, tu lo sai, un tempo non avevamo niente, ma cantavamo. Un tempo c'era soltanto un po' di zuppa la sera, con scodelle sbeccate, ma cantavamo. Un tempo non c'era la televisione, ma ci guardavamo negli occhi e parlavamo di tutto e cantavamo. Un tempo tutti eravamo poveri, ma tenevamo sempre la chiave nella porta di casa e ci salutavamo per la strada. Eravamo liberi dalla paura e cantavamo. Un tempo, se c'era una gioia, si condivideva. Se c'era un dolore, si partecipava. Se nasceva un bimbo, si benediceva. Se una persona invecchiava, non si cacciava di casa, condannandola all'esilio, lontano dagli affetti. Se moriva un vecchio, si piangeva e si pregava. Se c'era un ammalato, si abbracciava con tenerezza e si curava con il cuore, prima che con le medicine. Un tempo non mancava mai il canto, nelle nostre case di sadorne, perché il cuore era pieno di Dio. O Maria, protegge e illumina le nostre famiglie. Amen. Il primo mistero doloroso ci porta nell'orto degli olivi. Gesù prega, soffre e inizia la sua passione per riempire di amore, di amore infinito, il vuoto di amore creato dai nostri peccati, che ci sia anche una nostra goccia di bontà accanto all'infinito amore di Gesù. Padre nostro che se ne siedi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Ave o Maria Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Ave o Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose nella tua misericordia il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene flagellato e tutto sopporta con infinita pazienza perché? perché vuole spremere dalla sua umanità tutta la capacità di amore per controbattere per contrastare il male la cattiveria dei nostri peccati Padre nostro e se sei nei cieli che sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amene Ave Maria piena di grazia al Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amene Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amene Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amene Ave Maria piena di grazia prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amene Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amene amene Santa Maria piena di grazia prega per noi peccatori amene adesso è nell'ora prega per noi peccatori prega per noi peccatori amene amene gloria di Dio amene gloria a Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amene o Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato di spine deriso umiliato ricordiamoci quando commettiamo una cattiveria quando rifiutiamo il perdono quando compiamo gesti di egoismo mettiamo spine nella corona di Gesù quando invece perdoniamo quando compiamo un gesto di bontà quando compiamo un gesto di carità sincera allora togliamo una spina dalla corona di Gesù impegniamoci oggi a togliere una spina facendo un gesto di bontà programmiamolo subito Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra nasce oggi il nostro pane con i diari e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave o Maria Piena di grazia tu sei benedetta e benedetta è il frutto di grazia il Signore il Signore il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è è il frutto è il frutto del tuo seno Gesù Gesù Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia nel quarto mistero del dolore seguiamo Gesù che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario con due ladroni confortato però dalla presenza della madre sempre vicina sempre accanto fino all'ultimo respiro e quando si soffre la presenza di una persona amica dà tanto conforto guardiamoci attorno forse accanto a noi c'è qualcuno che sta portando la croce basterebbe una parola anche soltanto la presenza per dare conforto facciamolo è così che si rivive la passione di Gesù Padre nostro che se ne c'è sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén o Gesù perdona le nostre corte preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia nel quinto mistero del dolore fissiamo lo sguardo su Gesù crocifisso e in una posizione di dolore estremo eppure prima di morire prima di dare l'ultimo respiro di amore Gesù guarda e vede la madre accanto a sé vuole donare anche la mamma e dice a Maria donna cioè tu sei il vertice della femminilità e della maternità tu sei la vera donna alla quale tutte le donne dovrebbero guardare donna ecco tuo figlio e quel figlio era Giovanni ma anche ciascuno di noi Maria pensate come abbia preso sul serio queste parole e in cielo le risente in continuazione donna ecco tuo figlio ci siamo anche noi Maria aiutaci in questo particolare e drammatico momento Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra facci oggi il nostro pane come ti amo e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amore ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù ave o Maria Piena di grazia madre di Dio prega per noi peccatori prega per noi prega per noi adesso è l'ora del tuo seno Gesù 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 ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù che è il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, si tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, preghiamo supplichevoli. E' il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salva. A te ricordiamo, noi esudi figli di Eva, a te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di Lani. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Pulissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre semprevergine, prega per noi. Madre immagolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre del Creatore, 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 prega per noi. Mad Vergine fedele, prega per noi, specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre d'Avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'Alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, conforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergiri, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del santo rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, regina di Dio, prega per noi, Santa Madre di Dio. Abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Per intercessione di Maria Immacolata vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Impegniamoci tutti a compiere un gesto di bontà per togliere una spina dalla corona di Gesù. Andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. 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 Grazie a Dio.